Nel corso di controlli del territorio e dopo ripetuta segnalazione di cittadini residenti a Marina di Acate, seguito da un esposto alla deputata regionale Vanessa Ferreri, la Polizia provinciale è intervenuta sequestando una discarica a cielo aperto di 500 m2. La discarica si era formata lungo la strada comunale 26 in direzione della Fogia del Dirillo, con rifiuti in prevalenza di origine domestica. Tra l'altro nel sito, ignoti di recente, hanno anche innescato un incendio appestando l'area di fumi maleodoranti che hanno preoccupato non pochi residenti alla zona. Nella stessa area erano stati depositati da tempo materiali contenenti amianto che la ditta incaricata dal comune di Acate aveva raccolti in precedenza per il successivo smaltimento. Considerato anche che l'area non era stata ancora bonificata ma che anzi i rifiuti aumentavano, la Polizia provinciale ha proceduto quindi al sequestro il sito, affidandolo in custodia ad un funzionario del comune che dovrà desattivare le procedure di competenza per rimuovere i rifiuti e ripristinare i luoghi. Si tratta tra l'altro di un territorio quello di Acate è particolarmente attenzionato anche per la presenza del fenomeno delle fumarole dovuto come è nota alla cattiva abitudine di agricoltori di bruciare la plastica dismesse dalle serre.